Domani alle 20.30 al Teatro Lirico di Cagliari si alza il sipario sulla stagione 2023 con un'opera piena di amore ed entusiasmo e il Gloria di Francesco Cilea per la regia di Antonio Albanese. Ambientata nella Siena del XIV secolo, la trama è una variazione sul tema di Romeo e Giulietta e racconta la tragica storia di due amanti coinvolti nel conflitto tra Guelfi e Ghibellini. L'opera in tre atti venne rappresentata per la prima volta il 15 aprile 1907 alla Scala di Milano, diretta da Arturo Toscanini e adesso sbarca in Sardegna. La stagione di lirica e balletto del Teatro di Cagliari è sempre molto attesa dal pubblico. Ieri si è svolta la prova generale del Gloria ed è stata l'occasione per svelare il nuovo allestimento del teatro ispirato alla Sardegna nuragica. Di primo ordine è il cast. L'orchestra e il coro sono del Teatro di Cagliari e sono guidati dal maestro Francesco Cilluffo, tra i giovani musicisti italiani più seguiti dalla critica. Il coro invece è diretto dal maestro Giovanni Andreoli.